ebbene anche sì anch'io ho fatto la mitica sigla estiva di sebi recensioni scarse altrimenti lui si arrabbia che solo lui è tornato con la vecchia sigla e approfitto per l'occasione per dire al mio amico youtuber fumettoso sebi lo so che sei super impegnato col completare questo tuo ultimo romanzo e poi vabbè il lavoro che fai e patapim e patapam però scusa è l'ultimo martin mister fantasmagoria due chiacchiere al volo ce ne puoi dare dai se tradisci proprio il buon vecchio zio martin non lo so dai poi questo è veramente un numero simpatico è sfizioso questo dedicato alla fantasmagoria dai sebi molla tutto ma non il buon vecchio zio martin e il buon vecchio zio alfred mi raccomando sebi